Sì, è vero, siamo stati tante volte sacrificati ed è ora di aprire bene gli occhi, ma però un governo ci vuole sempre. Se non c'è qualcuno che comanda, come si fa ad andare avanti? E a che cosa serve l'essere comandati? Chi comanda fa sempre il comodo suo e sempre, sia per ignoranza che per malvagità, tradisce il popolo. Il potere fa andare i fumi alla testa anche ai migliori e poi bisogna che il popolo cessi di essere un branco di pecore e si abitui a pensare con la propria testa. Il comando degli uni educa gli altri all'obbedienza e seppure ci fosse un governo buono, esso sarebbe più corruttore e più debilitante che un governo cattivo. Per educare il popolo alla libertà e alla gestione dei propri interessi bisogna lasciarlo fare da sé, bisogna che senta la responsabilità delle proprie azioni nel bene e nel male che ne deriva. Certo, farà male molte cose e spesse volte, ma dalle conseguenze che ne risentirà capirà di aver fatto male e tenterà nuove vie. Senza contare poi che il male che può fare un popolo lasciato a sé stesso non è che la millesima parte di quello che fa il più benigno dei governi. Perché un bambino impari a camminare, bisogna lasciarlo camminare e non spaventarsi per qualche urto o per qualche caduta.